eccoci qua ora voglio parlarvi della mia skin care routine di giorno la mattina sempre su consigli presi da il canale del dottor luiz campo bene la mattina lasciamo perdere la detersione e lavo il viso ok come tonico uso questo che di klerz lo uso la mattina perché questo è un tonico idratante che contiene tante belle cosine ma contiene peptidi io usando il retinolo e anche quando usavo l'acido glicolico mi ero accorta che se lo usavo prima di mettere una crema o un prodotto a base di retinolo o glicolico questo ci cozzava e la mia pelle lo sentiva che gli dava fastidio non è non succedeva niente di particolare ma io questo lo preferisco usare la mattina perché non applico acidi questo è veramente buono perché idrata la pelle ed è un essence più che un tonico ne metto qualche goccia sulla mano si sente già che è un po ricco e comunque si spalma sul viso si tampona si asciuga e si passa oltre e si passa dove passo io sempre sempre questo contorno occhi che l'infinite aloe gold perché è più cremoso rispetto all'inlight che metto la sera quindi va bene dovendomi truccare e poi ripeto l'associazione di due gocce di niacinamide al oh mamma al 10 per cento e zinco ad un per cento più una due gocce di acido ialluronico dottor sebag the ordinary dottor sebag metto sul viso aspetto un pochettino poi ho comunque da terminare non mi piace aprire tante creme viso ne ho un'altra poi già pronta lì per essere usata l'infinite aloe skin care ve l'avevo già fatta vedere vi avevo fatto la descrizione io l'ho presa proprio sul sito americano perché si risparmiava e non avevo pagato le spese di dogana perché avevo preso anche quella occhi c'era un pacchetto convenienza a me piace molto questa crema questa crema a tante vitamine a tanti sali minerali all'aloe a vari tipi di aloe all'interno questa è una crema lenitiva idratante che poi agisca anche un pochino per omogenizzare l'incarnato sì perché ha una piccola percentuale di vitamina c piccola vi dico perché la mia pelle lo tollera nel senso che quando io uso gli acidi la sera non posso la mattina anche se è in un'altra fase di skin care mettere la vitamina c perché la mia pelle non reagisce bene perché tollera gli acidi ma è anche sensibile quindi o faccio una skin care di sola vitamina c o la faccio di acidi e preferisco gli acidi al momento poi farò anche quella vitamina c più avanti questa crema ve la faccio vedere perché ce n'è parecchia dentro io sono a oltre la metà è lenitiva ovvio io non ho la pelle irritata quindi non sento il bisogno di lenire la pelle però sento che va a idratare ricompattare ha una bella sensazione una crema che va bene per il contorno occhi per il viso per il corpo per le mani è un è un jolly questa crema e a me piace moltissimo non unge è una buona base per il trucco ottima poi vado con la protezione viso assolutamente e io ne ho due da farvi vedere perché perché quando è inverno mi va bene utilizzare una protezione 50 è un'alta protezione perché anche inverno e raggi del sole sono meno violenti questa è la protezione viso del dottor sebag che mi piace si presenta piuttosto spessa piuttosto spessa sono quelle protezioni proprio che le vedete sul viso perché vi sbiancano un pochino però poi vengono assorbite ed è una bella crema perché non unge cioè alla fine anche se spessa così assorbe e non fuoriesce non esce durante il giorno e mi dà proprio la sensazione di un'ottima protezione proprio perché la vedo spessa non so se capite quello che voglio dire poi oltretutto questa del dottor sebag l'ho presa su neos questa qua a protezione via uvb anti pollution le luci blu del telefonino del computer delle luci in generale e quindi considerata un anti aging anti aging perché tutte le protezioni viso sono anti aging perché il fattore principale che invecchia la nostra pelle è il sole questo dobbiamo saperlo ed essere consapevoli tutti vi piace stare al sole sì ma fatelo consapevoli e coscienziosi di quello che fate quando fa tanto tanto caldo che il sole diventa più violento giugno luglio agosto insomma i mesi più caldi più soleggiati più forte dove il sole è proprio più forte il mio jolly il mio jolly lo uso da tantissimi anni mi fido di questa casa ed è la is the spot preventers c'è anche la la correttiva c'è insomma ne ho fatte di vari tipi io ora altra ogni tanto alterno quella che corregge le macchie che ci sono e a quella che le previene quella che le previene contiene acido ialuronico quindi è molto più idratante ed è più leggera è più leggera rispetto al dottor se bag e questa è una protezione 100 spf reale 100 più poi c'è chi dice che non esistono ma intanto io quando uso questa sono sicura l'anno scorso in estate ho usato una protezione bella veramente bella di elena rubin stiamo a 50 io a fine estate avevo delle macchie cosa che con questa a me non è mai capitato ed è una protezione 100 bisogna darne parecchia non si può dare la punta di un dito dovete fare una bella striscia sul dito e darvene non aver paura perché comunque non fuoriescono sono veramente prodotte formulate bene e appunto questa è una protezione io non leggo sulla cosa ma so che contiene acido ialuronico protegge dai raggi UVA UVB e non so dirvi di più perché non credo che protegga non credo che abbia il potere di cioè non scrivono che proteggono dal computer dalle luci blu ma secondo me è una protezione 100 mi sento sicura anche davanti al computer è un telefonino che tanto io ci passo molto poco tempo ecco ed è ottima 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 eccola qua due volte alla settimana e prediligo fare questo trattamento la mattina quando posso che ho tempo una volta uso questo di natura bisecca il diamond cocoon enzyme cleanser che è un gel gel crema che applico sul viso asciutto lo lascio il tempo di lavarmi i denti il tempo di proprio qualche minuto poi lo sciacquo via ed è una un detergente enzimatico anti inquinamento molto molto buono l'altra volta cioè una volta alla settimana questa l'altra volta questa è la maschera viso del dottor sebag skin perfection perfecting mask un viso collo per tutti i tipi di pelle questa pulisce in profondità illumina l'incarnato e non secca la pelle è bellissima lascia allora da una sensazione di freschezza sul viso io la tengo cinque minuti perché si tiene dei cinque sette minuti cinque minuti mi bastano da una freschezza al viso perché c'è del mentolato del caolino ma veramente lascia la pelle bella morbida e luminosa quando si sciacqua via e sempre sempre ogni volta che uso uno che uso l'altro applico la maschera subito dopo della bioderma sensi bio mask che è una maschera per pelli sensibili intolleranti va a lenire qualsiasi cosa mi può dare irritazione mi nutre mi mi porta il ph a un livello normale dandomi veramente compattezza idratazione e nutrimento alla pelle la tengo anche un'ora due ore ho fatto anche una notte con lei e mi è piaciuta tantissimo il prodotto non è costoso io vi consiglio comunque di prenderlo su farma e perché ha un costo decisamente più abbordabile bene questa è la mia skin care routine di giorno spero di esservi stata utile che vi abbia intrigato un pochino nei prodotti vi mando un grosso bacio e vi auguro una buona vita a tutti